Sesta mattina. Gli alberi e gli animali fanno parte della natura, sono naturali, ne fanno parte ma non possono uscirne. Non possono essere separati neanche per un solo istante. L'essere umano sì, perché può osservare le sue energie e trasformarle. Nel sesso dipendi e puoi venire rifiutato e più in profondità diventi proprio un animale. E questo ti spaventa perché perdi il controllo. Il controllo della mente manipolatrice. Rimani nella consapevolezza del sé testimone. In un profondo atto d'amore, tu e l'amante vi unite in un'immensa energia. Sperimenterai mutamenti nell'energia, lo svanire dei pensieri, lo scioglimento dell'ego. Ora non sei più nel colpo, ora sei creativo. Fa che diventi un martello continuo dentro di te. Fa che il tuo corpo e la tua mente sappiano che ti stai sforzando di rimanere cosciente. Quando ami dai per abbondanza, perché hai troppo, non perché hai bisogno di dare. Trasforma la tua energia sessuale e diventi libera, indipendente e creativa. Guardare vuol dire toccare con gli occhi. La differenza che abbiamo con gli animali è che noi possiamo osservare le nostre energie. E se le possiamo osservare, le possiamo trasformare. È proprio l'osservazione che le trasforma.